buonasera buonasera a tutti che ci seguite oggi 14 giugno 2017 siamo qui su liberi tv e in questa puntata di voci trasnazionali parliamo di grecia in compagnia del nostro amico ormai così lo possiamo chiamare francesco de palo giornalista scrittore direttore del di mondo greco che è un giornale online se non erro ovviamente specializzato su tutta la materia greca ma insomma noi lo consultiamo ormai come fonte di notizie per quanto riguarda la grecia non solo tutta la parte anche balcanica per commenti sul tema e partiamo ovviamente parlando parleremo di grecia e partiamo oggi questa conversazione da un da un videino che lui ha accurato molto molto diciamo ben fatto che riguarda praticamente un po la sorte in questo periodo di migrazioni di popoli dei siriani negli spot greci in particolare uno spot che sta alle termopili siriani alle termopili è il titolo di questo di questo videino che sta su youtube si può vedere tranquillamente e anche su dal sito di mondo di mondo greco si può vedere curato da francesco de palo e insomma devo dire la verità è chiaro che l'atmosfera è un po mesta perché insomma si descrivono tutta una serie di di situazioni soprattutto quando tu poi peraltro vai anche nel particolare a raccontare sinteticamente dei singoli casi però devo dire facendo un paragone con l'italia e calcolando che la grecia sta come sta io sinceramente pensavo una situazione una condizione peggiore devo dire fa onore alla grecia il fatto che tratti queste queste persone a mio parere meglio di come le trattiamo in italia ma ti do subito la parola su questo e poi andiamo ci diciamo ci lasciamo andare a ruota libera su queste tematiche a te la parola ben ritrovato direttore ben ritrovati telespettatori sì è stata devo dire al di là del fatto che i tecnici poi hanno noi tecnici sviluppiamo sempre una sorta di insensibilità nei confronti di quello che vediamo per me è stata un'esperienza di vita perché guardare con gli occhi si della telecamera ma innanzitutto con gli occhi di uomini di persone di padri di amici insomma di figli quello che sta succedendo in grecia che ovviamente con le dovute proporzioni numeriche perché in italia i numeri sono ben più drammatici quello che sta accadendo davvero negli hotspot greci è stata davvero un'esperienza di vita perché perché io sono andato a visitare questo hotspot lì dove le unida i suoi 300 spartiati si si scontrarono con i persiani di serse in un luogo assolutamente simbolico perché perché ci sono questi due alberghi che risalgono ai tempi dei coloneri della grecia che sono stati adibiti dalla 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 regione della tiotida quindi con fondi europei ma sotto il diretto controllo dell'amministrazione locale greca a centri di accoglienza hotspot per 500 fra siriani e iracheni ma a 50 metri dai due hotspot ci sono le le terme dove lo stesso leonida si immerse prima della sua battaglia e dove i turisti che passano solitamente per rendere omaggio a questo luogo storico si accorgono della presenza dei migranti e chiedono e si chiedono perplessi cosa stia accadendo ecco mi è capitato mentre giravamo questo documentario c'era una coppia di francesi quali si chiedevano che cosa stesse succedendo e le abbiamo spiegato con molta semplicità che quello che non stanno facendo gli altri paesi europei infatti la commissione ha appunto richiamato tre quattro paesi che non hanno contribuito alla redistribuzione dei migranti quello che non stanno facendo l'ottanta per cento degli stati europei l'hanno fatto l'italia e la grecia come tu dicevi è davvero una medaglia per i greci perché al di là delle problematiche che poi ovviamente racconteremo se vorrai è chiaro che un peso così così ingombrante è stato portato da un paese in una situazione di eroismo totale perché in questo momento la grecia è zavorrata da sei anni di crisi sei anni di austerità davvero si è interrotta la circolazione del denaro del commercio a vedere i due i tre cooperanti che mi hanno accompagnato la signora alexandra la signora maria il nostro interprete iosif che è un siriano che vive in grecia da 40 anni fa l'ingegnere quindi davvero si è offerto di fare il mediatore culturale nei confronti del suo popolo vedere queste cose è stato è stato una cosa assolutamente peculiare poi tu mi dirai sì le condizioni non erano non erano male ti aspettavi di peggio e anche io mi aspettavo di peggio però ecco il primo elemento che ti che ti veicolo è una una distonia pazzesca tra i due containers cucina che abbiamo ripreso e che erano lì costosissimi e le camere le camere dei siriani dove in una camera dormivano anche otto persone con tre quattro cinque bambini le ceste della frutta utilizzate per gli armati per per delle moderne scarpiere le toilette nei piani nei piani bassi dei due hotspot i bimbi che giocano a calcio era il primo maggio quando ho fatto l'ispezione quando i bimbi che giocano a calcio sotto diciamo con questo sciame di zanzari vestiti estivi che non sono arrivati tutti con addosso i vestiti sintetici un un siriano che si avvicinato a noi perché sua moglie era prossima al parco e aveva bisogno di un assisto ma questa questo hotspot quanto dista dal primo centro abitato diciamo dista a cinque chilometri dal comune di lamia a una cabienza non è così distante no non è così distante anzi loro hanno anche la progetta serale di uscire tornando al discorso del paragone no beh io qua purtroppo abbiamo assistito guardando non so chi si interessa eh a rivolte all'interno di quartieri per assegnazione di alloggia può essere una casa popolare può essere o addirittura quando si vocifera che in un quartiere possa essere un immobile abbandonato adibito ad accoglienza e così via eh delle piccole sommosse all'interno delle nostre città ricordiamoci se non sbaglio a Ferrara quello che accadde eh chiusero una strada perché dovevano arrivare non so se dieci o dodici donne una cosa del genere una cosa minima però insomma invece per quanto riguarda la Grecia peraltro appunto questo hotspot non molto distante dal centro abitato mh e sapendo perché ci informiamo grazie anche a te eh su libri tv eh che la Grecia insomma il popolo la comunità eh di dei greci sta vivendo una situazione economica veramente pesante con dei grossi tagli alle retribuzioni alle pensioni beh purtroppo in molti altri posti in Italia in Europa si è assistito a dei rigurgiti un po' gastrici di stomaco ecco questa cosa in Grecia non è non è avvenuta a quanto pare no allora bisogna distinguere e io diciamo proverei a distinguere le due allocazioni degli hotspot questo è sulla terraferma e ha avuto delle difficoltà ma diciamo è stato ammortizzato dalla situazione geografica cioè l'hotspot intermobili è sulla terraferma lontano dalle mete turistiche legate alle isole quindi diciamo che non ha influito in modo negativo sull'approccio turistico eh io però l'anno scorso sono stato a Lesbo l'isola dove purtroppo due giorni fa c'è stato un terremoto gravissimo terremoto abbiamo purtroppo dodici feriti una persona deceduta un villaggio raso al suolo davvero una situazione complicatissima eh quindi a Lesbo oltre al problema del terremoto da da due anni hanno il discorso dell'accoglienza dei 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 migranti dei rifugiati però il problema qual è che essendo un'isola a vocazione turistica perché non ha altre entrate se non la vocazione turistica lo scorso anno quando siamo stati a visitare sia l'hotspot sia le cittadini più significative il discorso era legato al crollo delle prenotazioni e a un indotto che non si è diciamo non si è concretizzato come il resto degli anni quindi la critica che magari eh tra colleghi tra analisti si tentava di fare ovviamente una critica costruttiva per carità alle politiche governative non solo non solo europee ma anche greche perché poi la gestione è comunque in mano al governo era quello di scegliere comunque delle location che fossero il più possibile distante dal 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 luogo turistico ma non perché si vuole mettere la polvere sotto il tappeto non si vuol far vedere il problema ma perché non si vuole caricare non si vuole incidere su una situazione già complessa e a maggior ragione nonostante le deficienze europee nonostante le deficienze del governo perché io ti devo dire che i due containers cucina sono arrivati lì eh il primo il primo maggio ma questo hotpot è è già da 13 mesi attivo eh quindi diciamo che le deficienze strutturali europee e greche sono lì cioè la politica continua ad essere inefficiente ma prima della politica ha fatto un passo la cittadinanza perché lo scorso anno quando nel 2016 eh i famosi bus con i 500 siriani sono arrivati alle termopili ho visto con i miei occhi il presidente dell'ordine dei medici di la mia è una serie di medici che conosco personalmente eh lanciarsi in questa accoglienza fatta davvero con gli elettrocardiogramma fatti negli autogrill lanciarsi nell'accoglienza fatta di di sensazioni di percezioni umane cioè la politica l'ideologia tutto questo viene messo da parte perché quando arrivano 500 persone con 200 bambini francamente di stare a polemizzare con un partito con l'altro con l'Europa o con questo e quest'altro non interessa più a nessuno perché c'è un'emergenza un'emergenza oggettiva che va gestita cioè senza ideologia ma con ma con politiche logiche mirate allora il problema invece è proprio questo se dopo un anno l'hotspot è diventato un punto di arrivo e non di ripartenza perché non non viene ricollocato più da nessuna parte il siriano che oggi è a termopili così come accade immagino in altri hotspot in Italia e in altri in Grecia perché sono questi due i paesi che sono diventati i lazzaretti d'Europa cioè la commissione europea quando tira le orecchie ai paesi dell'Europa centrosettentrionale lo fa però francamente io mi sarei aspettato anche una levata di scudi dai giornali dai media dalla politica buona e pulita non da quella che strumentalizza in un modo o nell'altro il tema dei migranti perché la Germania per esempio che comunque ci richiama al rispetto delle giustamente al rispetto delle regole sul bilancio la Germania però non dice niente sul suo surplus di bilancio e su quello che non fanno alla voce immigrazione perché ci sono dei paesi che non hanno adempiuto all'obbligo di ricollocamento ma ti dirò di più in una disposizione che ho letto qualche mese fa sull'obbligo della redistribuzione c'era scritto che la commissione europea alla fine ha detto va bene chi non può redistribuire andrà incontro ad una sanzione pecuniare che significa? Che i ricchi finlandesi potranno dire non accogliamo nessuno paghiamo una multa alla commissione europea? Che i ricchi svedesi potranno fare lo stesso allora se questo è il metro che la politica europea ha scelto per gestire il dossier migranti dopo l'accordo capestro raggiunto con la Turchia e che ci produrrà altri elementi di discussione perché proprio a Vantieri in Puglia è arrivato uno yacht giunto direttamente dalle coste turche con 50 migranti a bordo quindi significa che la malavita turca continua a fare quello che che in sostanza ha sempre fatto sotto il sole dell'Europa o all'ombra dell'Europa significa che non abbiamo capito niente di un fenomeno che è globale che non può essere ammortizzato solo dalla Grecia benché meno che dall'Italia e vedere permettimi questa digressione durante il G7 lo spazio aereo lo spazio navale attorno alla Sicilia è stato chiuso quindi solo quel giorno non sono arrivati i migranti sono stati mandati a Malta significa che anche i rapporti con Malta andranno valutati e io non posso accettare che i governi della zona europea del Mediterraneo restino così passivi nel non gestire, nel non rimedicare dei diritti che ti ripeto non sono ideologici ma sono diritti di logica a gestione di un fenomeno così importante. Allora entrando a Termopili ho visto il direttore di questo hotspot che è un giornalista che era lì a lavorare 12 ore al giorno, una ragazza che ha un contratto di tre mesi a tempo con la regione dell'aftiotica, cioè vedere questa situazione con le lavatrici all'esterno, con questi bambini che giocano nella polvere, con le scarpe bucate, cioè veramente le ideologie rimangono fuori dall'hotspot perché alla fine è questa la verità, perché al di là del fatto se ognuno di noi abbia o meno dei bimbi, cioè vedere una situazione del genere nel disinteresse globale quando il padrone di casa dell'Europa che potrebbe comunque ridisegnare i perimetri di questa grande operazione che si chiama accoglienza, sia con accordi con i paesi di partenza, sia tentando di risolvere il dossier della Siria, perché per esempio io e i tre immigrati che ho intervistato, siriani, non sarebbero mai fuggiti dall'EPO. E infatti questa cosa emerge chiaramente, uno è un medico se non sbaglio, poi c'è qualcuno che cerca di raggiungere, un medico che vuole raggiungere qualcuno a Parma se non sbaglio. Sì, questo ragazzo di 29 anni è laureato da due anni in medicina, sua moglie faceva la casalinga, mi ha specificato, non abbiamo bisogno di due stipendi perché ce n'era già uno. Suo zio era chirurgo a Parma e un altro gruppo di suoi cugini lavorava in un'azienda tessile in Lombardia, quindi era una famiglia che si era non solo integrata in Italia, ma una famiglia che è riuscita a farlo laureare e non aveva assolutamente bisogno di andare via dal suo paese e ha dovuto abbandonarlo. Un altro era professore di storia al ginnasio e comunque mi ha raccontato che adepti dell'ISIS gli si sono avvicinati per intimarli di farli crescere la barba, perché così avrebbe avuto la vita eterna. Un'altra coppia aveva un supermarket, quindi comunque avevano una propria vita e una propria pubblicità. Sostanzialmente sono dei profughi veramente in fuga dall'ISIS, quindi hanno motivazioni politiche. I siriani, sì. non sono, come si dice, e poi c'è tutta questa differenza che è anche un po' ridicola, migranti economici, non economici, perché poi uno che si muore di fame è anche una questione politica, a mio parere. Ma comunque scappano per non essere assorbiti dall'integralismo e magari scappano e scappando si sottraggono al reclutamento. Assolutamente, i siriani sì, si sottraggono al reclutamento, si sottraggono alle bombe che cadono e alle bombe che vengono nascoste in questi pick up, come mi ha raccontato un ragazzo, perché l'ISIS riempie questi pick up di esplosivo, li fa esplodere nel centro delle città e riprende l'esplosione con i video per farli circolare sui social. Quindi hai ragione, i migranti siriani sono di un'altra tipologia, non fuggono per esigenze di carattere economico, come per esempio le comunità dei nigeriani e dei bangladesi, che però hanno anche una retrofuga politica, perché in Nigeria sappiamo bene tutto il discorso legato agli idrocarburi, per cui la Nigeria è uno dei paesi più ricchi del mondo, non è concepibile il fatto che i nigeriani siano costretti a espatriare per un problema legato all'altro. Tutta la questione africana, la questione di macro politica, tutta la fame e la sete africana è una questione di macro politica, perché pensate che nel terzo millennio ancora ci sia gente che muore di fame e di sete vuol dire che politicamente gli altri non hanno fatto qualcosa o forse addirittura hanno provocato quella situazione. Ma adesso non vorrei perdermi da un'area geografica del mondo all'altra. È evidente che quello che abbiamo visto in questo video e appunto le nostre spontanee considerazioni sulla situazione greca ci portano a fare qualche piccola riflessione sull'Eurogruppo che in qualche modo sta prolungando questa agonia della Grecia con questa questione del debito che in qualche modo si pensava che venisse tagliato, ma pare che invece non verrà tagliato. Ci sta un primo approccio di questo giovane nuovo leader francese che invece è abbastanza possibilista. Che ne pensi tu? Allora, da quello che si sa e da quello che si dice, il tema relativo al taglio del debito greco è un Moloch che non si sposta e non si muove perché? Perché il ministro delle finanze di Berlino, Wolfgang Schäuble, ha deciso che di debito greco non si deve parlare se non forse dopo il 2018. Perché? Perché quest'anno la Germania va a elezioni nel prossimo settembre, perché nonostante la Merkel sia avanti nei sondaggi è stata per alcuni mesi tallonata, soprattutto nei primi mesi di campagna elettorale, da Schulz e dei socialisti che hanno iniziato con un certo piglio, con un certo passo più rapido, mentre invece adesso sono dati un po' in calo, ma soprattutto è legata ad una visione. Perché? Perché solo Schäuble è rimasto nel mondo a sostenere che la Grecia non dovrà tagliare il suo debito, quando tutti sanno che un paese che non è liquidabile come la Grecia, al quale viene prestato del denaro, non del denaro per ricominciare a camminare, ma del denaro per pagare i debiti pregressi, un paese con queste premesse e con queste scelte suicide politiche può soltanto peggiorare i propri conti e non migliorarli. E la dimostrazione di questo assunto, la dimostrazione che Schäuble sbaglia, non sta nelle parole che dico io o che dice qualche altra lista, ma sta nei numeri. Cioè il debito pubblico greco dal 2012 ad oggi, dall'inizio della cura della troica, è peggiorato. Cioè la Grecia ha più debiti oggi rispetto al 2012 di quando è iniziato la famosa cura della troica, cioè il memorandum. Cioè il memorandum che significa? Significa che come quando si prende un'azienda in fallimento, anziché ottimizzare i costi, tentare di abbattere gli sprechi, tentare di mettere benzina per la rinascita e per la ripresa, si sceglie soltanto di tagliare i rami secchi. Tagliare i rami secchi è un conto, ma tagliare l'albero, come è stato fatto in Grecia, significa distruggere ogni forma di speranza e di rinascita. Quindi Schäuble ha questa posizione. Tra l'altro il Fondo Monetario Internazionale, che è l'ente che si scontra con le politiche berlinisi, perché noi dobbiamo ricordare che il Fondo Monetario Internazionale, guidato da Christian Lagarde, è stato il primo nel 2013 ad alzare la mano e dire, signori della troica, scusate... Insomma a sollevare un po' un dubbio rispetto a questo modo. E certo, perché già i conti non tornavano nel 2013. Il Fondo Monetario Internazionale sosteneva che i conti erano stati sbagliati già sulla diagnosi del debito greco. Andando avanti con gli anni, il Fondo Monetario Internazionale si è reso conto che i progressi non ci sono, perché all'attività di austerità non è stata controbilanciata un'attività di ripresa. Allora il Fondo Monetario, qualche giorno fa, negli incontri preliminari, nelle schermaglie prima dell'Eurogruppo, ha detto, propongo di allungare la ristrutturazione del debito fino al 2100, perché ad oggi, nel 2017, la Grecia è legata ai debitori già fino al 2052. Quindi immaginiamo che cosa voglia dire fino al 2100, andando a sbattere ovviamente con il no del presidente del gruppo di lavoro che si chiama Thomas Wieser, che è filo tedesco di tutti i partner europei, che ormai non hanno una propria opinione se non quello che decide Schäuble, e quest'ultimo sulla stampa austriaca, tra l'altro, ha anche detto che il Fondo Monetario chiedeva di ridurre il debito per la Grecia e di non pagare il capitale e gli oneri di interessi entro il 2060, ma portare dal 2100. Il problema qual è? Il problema è che Schäuble, in questo momento, sta conducendo una battaglia personale contro il Fondo. È chiaro che l'ingresso di Trump in questa scena, che comunque si è scrollato da ogni responsabilità nei confronti del vecchio continente, perché comunque ha spostato la sua attenzione sulla Cina piuttosto che sul vecchio continente, sull'Europa. Penso che in prospettiva abbia alcuni problemini personali che sono sognato dall'Europa. Abbastanza significativi, certo, assolutamente. Ma diciamo, al netto dell'elemento Trump, che è andato un po' a scompaginare la situazione, è una separazione incredibile quella che c'è adesso tra il Fondo, tra Washington e le politiche berlinesi. E non è solo politica, e non è solo polemica politica o schermale. Cioè il Fondo ha detto che i numeri non sono a favore della Grecia. Allora, se una medicina non mi sana una malattia, le cose sono due. O devo cambiare medicina, o devo cambiare medico. Ecco, allora medicina e medico, Francesco ti interrompo un attimo per chiederti, perché penso che ci vorrà anche un pochino di una botta al cerchio e una alla botte. In tutto questo, Tsipras, secondo te, come ha agito? Allora, Tsipras ha eseguito quello che è il quarto memorandum imposto dalla Troica. Tsipras è stato eletto con un programma. Io i comizi di Tsipras li ho assistito personalmente nel 2013 e nel 2015. L'ultimo comizzo nel 2015 era quello di io ho vinto, quindi ho vinto contro la Troica. L'austerità è finita. Cito testualmente a memoria. Abbiamo tagliato il cordone umbilicale con i creditori, la Grecia non farà più sacrifici. Era il 2015. Dal 2015 ad oggi, 2017, c'è stato due passaggi parlamentari, in cui la maggioranza del governo attuale in Grecia ha votato e vidimato il sesto taglio alle pensioni in sei anni, il sesto taglio alle indennità, la distruzione della sanità pubblica, la distruzione della sfera di diritti. Attenzione, io non sto dicendo che la Grecia non andava riformata. La Grecia andava e va riformata e va soprattutto rivoltata come un calzino. Ma un conto è fare le riforme che servono alla Grecia per dotarsi di arti inferiori e camminare con le proprie gambe. Un conto è fare un ennesimo taglio alle pensioni e agli stipendi. I pensionati greci sono stati già puniti. Attenzione, la Grecia ha già fatto quattro tagli alle pensioni, agli stipendi e all'indenità. Andare a fare ulteriori tagli alle pensioni, non toccare gli oligarchi che tramite la Costituzione hanno la possibilità di non pagare le tasse in Grecia, ma di pagarle altrove. Non toccare quelli che Zipras aveva detto come erano il male della Grecia, la lista alla gara degli evasori, gli oligarchi che non pagano le tasse. Tutta questa gente dove sta? Dove sono le carceri piene di evasori, come aveva promesso Zipras durante la campagna elettorale? Allora, io non voglio dare giudizi politici, io do giudizi di merito. Cioè, se il cambiamento in Grecia rispetto al passato è andare a tagliare le pensioni, non fare le riforme, andare a incidere su chi a 70 anni oggi è una vittima del sistema e non è parte di quel sistema, non mi sembra una politica innovativa, non mi sembra una politica... non voglio usare il termine sociale, perché in questo momento i diritti sono sviliti e nemmeno voglio usare la parola neoliberismo, perché molti la usano, ma io dico sempre che in Italia, di liberismo, non abbiamo avuto nemmeno il liberismo normale, perché la concorrenza non esiste, basta vedere che sta succedendo con Uber e con Flix, quindi il liberismo non c'è proprio stato, vediamo che succede a Roma con i trasporti pubblici, lasciamo stare questo momento. Con un'azienda che ha un miliardo e mezzo di debiti, che io penso che neanche in Cina, ma neanche nella Corea del Nord, un'azienda simile non sarebbe stata mandata all'aria. Come i dipendenti della regione Sicilia, lasciamo perdere le cose, le cose. Però voglio dire, oggi in Grecia... Diciamo, tanto per rendere il quadro, anche da un punto di vista cronachistico, che la Grecia è stata esclusa dall'acquisto dei fondi, dal quantitative easing, quindi oltre che non ha potuto usufruire di quello di cui usufruivano altri stati, ovviamente per motivi ovvi, perché erano troppo rischiosi, però insomma è un quadro che ancora più si aggrava e che pare che fosse una specie di merce di scambio per una sorta di consenso che Tsipras avrebbe ottenuto, perché Tsipras ha anche un fronte interno a cui rendere conto e pare che lui aveva detto che con queste ultime strette perlomeno sarebbe entrata nell'ambito del quantitative easing, ma invece pare che neanche questo riuscirà a ottenere. Guarda, probabilmente hai ragione, tra l'altro Bloomberg dice quello che hai detto tu adesso, l'ha scritto ieri, Bloomberg ha sposato la tesi del direttore Gianni Colacione, che io credo che sia una notizia basata, perché ieri Bloomberg era scritto che la Grecia difficilmente rientrerà nel quantitative easing per il posto della BCE, perché non solo non ha rispettato i parametri legati alle riforme, ma non c'è un'ipoteca sul futuro, cioè oggi nessuno scommette sul fatto che dopo il memorandum la Grecia possa avere una reazione, possa avere una ripresa, cioè la notizia drammatica, io penso, ancora peggio del fatto che c'è l'esclusione del quantitative easing, è che nessuno scommette un euro sulla Grecia, perché se due o tre anni fa si diceva, vabbè, dopo cinque sei anni di austerità qualcosa ricomincerà a camminare, l'Eurogruppo di domani potrà solo dare una tranche da 7, miliardi di euro che la Grecia dovrà restituire il prossimo 4 luglio come interessi sul debito, quindi sono soldi che l'Europa torna indietro, quindi stiamo parlando ancora una volta di partite di giro, cioè nessuno ha il coraggio di prendere il toro per le corne e dire, signore abbiamo sbagliato tutto, perché la verità è questa, non si possono tagliare le pensioni per 7 volte, anche perché dopo aver tagliato le pensioni per 7 volte il risultato, lo sai qual è, è che la Grecia si è fermata, che nessuno spende più di euro, e non si blocca soltanto per quei settori altamente produttivi come il turismo, dove si stanno concentrando alcune privatizzazioni, su alcune possiamo essere d'accordo, perché? Perché è chiaro che se le ferrovie elleniche fino a tre mesi fa non avevano neanche il sistema informatizzato per fare biglietti online e i controllori molte volte rubavano l'incazzo dei biglietti, oggi con l'ingresso dei ferrovie dello Stato possiamo dire che quantomeno quell'elemento è stato messo in regola, così c'è un sistema normale. Su altre privatizzazioni però io metto un punto interrogativo, perché la Germania ha preso tutti gli aeroporti greci, ha preso gli aeroporti... Questo l'abbiamo detto, ti volevo fare una domanda, visto che il direttore ormai si spertica, di vibri di bu si spertica in considerazioni di infanta economia, ma ovviamente è una domanda che è così aperta, ma secondo te sarà più rischioso un titolo greco o più improponibile una di quelle azioni che sono circolate, i bondi in Italia che poi hanno determinato certi fallimenti totali, certi interessi che venivano promessi ai risparmiatori assolutamente improponibili perché erano proprio fuori da qualsiasi contestualizzazione economica? Perché insomma io adesso penso che il fatto che la Grecia non verrà abbandonata a se stessa spero che sia un assunto palese insomma, che ormai che la Grecia, che comunque sia l'Europa non perde pezzi per motivi economici. Quindi io penso che secondo me sarebbero stati... sono più rischiosi dei titoli e delle azioni che ti danno, che ti promettono con un interesse del 10%, 8% qui in Italia ed è successo che magari un titolo greco. Guarda, sui titoli greci io posso dirti che alcuni hanno speculato e hanno guadagnato molti soldi. L'attuale segretario al commercio americano, che si chiama Ross, prima di diventare segretario al commercio del governo Trump, era un magnate, cioè lo è ancora perché è uno dei più ricchi al mondo e nel 2013 quando nessuno scommetteva un euro sulle banche greche, ha pensato bene di investire, di fare investire, perché lui ci ha messo solo pochi spiccioli, ha fatto investire un miliardo e tre di dollari in questa banca greca che si chiama Eurobank. Un anno dopo Eurobank è stata la prima banca a godere del meccanismo europeo di stabilità e di salvataggio delle banche. Lo sapeva o non lo sapeva? Questo non lo so, io racconto i fatti, poi ognuno si fa un'idea. Questo magnate che oggi è segretario di Stato, di quel miliardo e tre di suo ci ha messo solo 30 milioni, noccioline, rispetto al miliardo e tre che è stato messo da una serie di fondi americani e da una grossa banca canadese. La notizia di oggi qual è? È che Eurobank, questa piccola banca greca, oggi è diventata partner di Santander, Santander è la banca spagnola, un colosso con ramificazioni in tutto il mondo, questa partnership, la banca greca è la decima banca mondiale che entra in partnership con Santander per andare ad aggredire il mercato cinese. Quindi delle due e una o qualcuno ha giocato, ha fatto una scommessa, ha preso un gratto e vinci, dice se mi va bene, oppure c'erano gli estremi per cui qualcuno sapeva ma solo pochi sapevano. Allora nessuno, nessuno dopo il 2012-2013 ha investito un euro in Grecia, ma oggi parlare di titoli è un conto, parlare del paese reale è un altro paio di macchie, perché se io domani decidessi di andare ad aprire un ristorante in un'isola greca, oppure decidessi di fare business con una serie di prodotti legati a un qualsiasi tema diverso in Grecia, me ne guarderei bene perché oggi in Grecia ti chiedono le tasse future, a chi ha pagato le tasse del 2016, lo scorso dicembre, visto che non è stata chiesta, è anche anticipo di tasse del 2017. Io conosco tantissime persone che hanno dovuto abbassare la sala cinesca del loro lavoro, conosco un commerciante che dopo 30 anni di camion e di tir e di viaggi tra Italia e Grecia, aveva deciso di fare il direttore della sua azienda, quindi non guidava più dei 10 anni il camion, questa persona ha licenziato tutti ed è tornato a guidare il suo camion. Quindi le situazioni in Grecia in questo momento sono allucinanti, la grande finanza è distante anni luce da quella che è la quotidianità e i negozi che in Grecia erano sorti come funghi e ce ne sono tantissimi come le taverne e i periptera che sono i giornalai, stanno chiudendo. In Grecia un giornalaio era aperto anche fino alle 12 di sera, mezzanotte, luna, perché vendeva di tutto, giornali, sigarette, bibite ghiacciate, quindi in Grecia, che c'è una temperatura sempre caraibica, il periptero, il giornalaio era un punto di riferimento, non solo sociale del quartiere, ma un punto di riferimento per tutti, per viaggiatori, per turisti, per chi deve fare un viaggio alle 3 del mattino, trova comunque un periptero aperto per bere qualcosa. Quindi vedere questi punti, questi luoghi assolutamente simbolici della Grecia, tirare giù la sala cinesca senza una via di fuga per il domani, significa che le politiche sono state fallimentali, io non faccio distinzioni politiche, cioè in questo momento abbiamo un executore materiale della volontà della troica, senza avere la capacità di dire guardate noi i sacrifici li facciamo, li stiamo facendo e li faremo, ma ne facciamo altrettanti per immaginare una ripresa? Com'è possibile che la Spagna si sia ripresa con una serie di difficoltà e la Grecia no? Com'è possibile che il Portogallo pian piano è venuto fuori dalla crisi e la Grecia no? Com'è possibile che anche Cipro, ricordiamo tutti, i cargo con i soldi che furono mandati a Cipro tre anni fa quando ci furono il riprendimento forzoso dei conti correnti, Cipro si è ripresa, la Spagna sta facendo dei passi in avanti, perché la Grecia no? Allora i giornalisti si fanno le domande e i politici devono dare le risposte. Allora Francesco mi pare che abbiamo un mazzolato sulla troica adeguatamente e abbondantemente, ti riporto a un tema, diciamo a un meglio, ad un ambito, ad un atmosfera a te in qualche modo, per te piacevole insomma, che è quella mitologica. Chiedendoti il commento di una notizia, una notizia di cultura, visto che siamo ormai in chiusura perché insomma il tempo è volato. Allora c'è una rassegna d'arte contemporanea che si chiama Documenta, Documenta 2017 in Germania, in cui un artista, un artista argentina se non erro, Marta Nugin, ha presentato un'opera, un'opera che si chiama Il Partenone dei libri, dei libri proibiti in particolare, che è la riproduzione uno ad uno in scala uno a uno del Partenone, completamente costituita in pratica, come si può dire, avvolta da libri, da testi, che sono stati nella storia dell'umanità, che sono stati messi all'indice, che sono stati bruciati e questo avviene nella Freadisk Plax, non so se l'ho pronunciata bene, di Cassel, dove a suo tempo Hitler bruciò i libri, che praticamente come ogni dittatore aveva il suo indice, mise l'indice e fece un grande falò. Ecco, io volevo commentare con te il fatto che appunto questa artista argentina in terra di Germania, per esprimere appunto la forza dirompente della cultura messa all'indice, Europea, ha pensato di ricostituire che cosa? Il Partenone. E lì io penso che tu possa dilagare. No, guarda, devo dire che spesso abbiamo bisogno di persone che sono molto lontane da noi, come la signora Minuncin, che è argentina, come tu hai detto, che viene veramente dall'altro lato del mondo, per ricordarci che cosa siamo stati, cosa siamo e cosa saremo, perché al netto dei parametri economici e politici noi restiamo questo, noi restiamo il Partenone, restiamo una grande icona di cultura, piazzata lì da chi 5, 10, 20 mila anni prima di Cristo ha dato i Natali alla cultura, alla storia, al primo tempio religioso nell'isola di Samotrasio, che è un'isola fantastica che vi consiglio di visitare, e vedere che la signora, l'artista, ha iniziato con testi proibiti è veramente una leccornia della cultura. Io vorrei commentartela così, in un momento in cui tutti invocano la cultura, ne parlano anche in modo spropositato, però un attimo dopo la sviliscono, perché? Perché i musei sono affidati a competenze straniere, perché alla cultura destiniamo sempre meno soldi, perché alla cultura noi pensiamo è comunque qualcosa tramite la quale non si mangia, anzi è un peso, e quindi i ragazzi devono solo conoscere la epsilon dell'elettronica e la I dell'inglese, magari la C della cultura la lasciamo solo nelle ore di educazione fisica, vedere questo scenario in cui tutti promettono qualcosa e poi vedere il risultato, il frutto di queste politiche, cioè non solo i nostri ragazzi, ma anche i nostri coetanei, i nostri cittadini che hanno in mano uno smartphone e la testa vuota, perché la testa non pensa più, è stata lasciata sul comodino, perché c'è sempre qualcuno che pensa al posto nostro, allora io non vorrei fare utopia né fare demagogia, però oggi, in un momento in cui davvero non conosciamo il nostro vicino di casa, non abbiamo letto un libro se non la gazzetta sportiva, non sappiamo più nulla di niente del nostro paese, delle nostre città, delle nostre aspettative, dei nostri soldi, non sappiamo niente, oggi siamo una generazione di invertebrati, di smidollati, oggi ricominciare dalla cultura, non è un consiglio, è una strada obbligata, perché oggi abbiamo una classe politica assolutamente impreparata, una classe imprenditoriale che non fa più impresa, che non fa più politiche industriali come si faceva all'inizio secolo, i nostri colleghi che fanno dei titoli pazzeschi, io ti invito a leggere i giornali e a vedere gli svarioni sui titoli che sono una cosa fantastica davvero per vedere che cosa non dovremmo fare, nascondere le notizie, siamo stati solo noi sul fatto due giorni fa a fare un ampio reportage sul terremoto a Lesbo, dove è morta una persona, l'isola che si contende il nove per la pace con Lampedusa, relegata in decima pagina anche sui siti di informazione nazionale, questa è una vergogna, allora vedere un'argentina, un'argentina che è mezza italiana, dare questo schiaffo morale in quel paese, in quel paese che chiede tanto a questo continente che sta guidando in solitaria, è uno schiaffo morale a chi ha deciso di continuare a farci vivere in questo medioevo 2.0, questa cultura che non esiste più perché oggi c'è la tecnologia e noi invece vogliamo l'euro rinascimento, perché la cultura aiuta a vivere meglio, a essere consapevoli e ad essere cittadini davvero attivi. Ottimo Francesco, allora stiamo in chiusura e come fa Michela Ponzani sulla storia stupenda, Michela Ponzani la salutiamo, ci segue e speriamo che seguirà anche questa trasmissione. nelle chiudere le sue, diciamo, conversazioni con vari professori eccetera, consiglia, anzi chiede di consigliare un luogo, un film, video, immagini, un libro, il luogo, la Grecia o perlomeno la Fiedisplatz di Cassel dove c'è questo partenone, il video, abbiamo detto in apertura, i siriani alle Termopili su Youtube curato da Francesco De Palo e un libro, la profezia delle campane, anch'essa curato da Francesco De Palo di Iorgos Theotokas, non so se non credo di averlo pronunciato bene, anche lui, anche questo libro è molto curato da Francesco De Palo con la traduzione di Maurizio De Rosa, edizioni TP, ecco di che si tratta molto rapidamente in chiusura. Allora, questo libro è stato scritto 40 anni fa da uno scrittore greco molto famoso, Theotokas, il quale 40 anni fa raccontava la caduta del partenone a causa di uno tsunami, l'inondazione con delle banconote della sede della Banca di Grecia e il crollo di due grattacieli a New York, cioè 40 anni fa questo scrittore si è inventato la crisi del debito, ha raccontato la crisi delle banche tramite il personaggio di un governatore, il governatore della Banca di Grecia, ma la cosa scioccante è che nessuno fino ad oggi l'ha tradotto, oggi la ETP Books di Enzo Terzi, che è un editore italiano che vive ad Atene e ha deciso di tradurlo in italiano e in inglese, c'è una mia piccola prefazione, vorrei sottolineare la traduzione di Maurizio De Rosa, che è uno dei filologi italiani più apprezzati nel mondo, raccontare che cosa? Che la storia si ripete, siamo noi che abbiamo disimparato a leggere i libri, abbiamo disimparato a leggere gli autori stranieri e voglio dire che se Theotokas si fosse trovato in una congiuntura politico-sociale migliore, perché la Grecia degli anni 50 era una Grecia martoriata dalla guerra, con la guerra civile, il secondo conflitto mondiale, le persecuzioni, i colonnelli, c'era veramente un disastro in questo paese, quindi non ha avuto la fortuna che hanno avuto altri suoi connazionali, se forse nato in un luogo diverso, magari in Italia, oggi staremmo parlando di una crisi del debito, di una troica, di un memorandum, vissi e rivisti e magari già in forma di film. Grazie, grazie a Francesco De Palo, ricordiamo direttore di Mondo Greco, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. A breve questa trasmissione sarà su LibriTV, su YouTube, facciamola girare tutti quanti e viva la Grecia. Grazie ancora. Sempre. Panta e l'asse. Grazie. Grazie. Grazie.